Sì, guardiamoci qualcosa. Ma c'è anche Star Wars, strabello! Ma quanto sarebbe bello essere un Jedi. Che succede? Mi si è bloccata la porta. Con il ritardo, il signor imbruttito mi licenzia. Tranquillo, ci penso io. Sono un fenomeno. Grazie mille per l'attenzione, grazie. Guardi, l'idea è davvero interessante. Peccato che esiste già, è anche quotata in borsa. Ah, perché dovremmo investire sulla vostra realtà quando ce n'è già una che va fortissimo? Fermi tutti. Nel giro di cinque secondi l'altra startup crollerà in borsa. Stanno truccando i dati sulle sostanze inquinanti. Tre, due, uno. Il titolo ha perso più di trenta punti. Ma tu cosa ne sai di conformità ambientale? No, niente. Ho sentito un turbamento nella forza. Bravo. No, guarda Cecina un po' di apela. No, un delirio. Un inferno. Signorina imbruttita, lei questa sera uscirà con me. Scusa un attimo. Ma ce la fai, Giorgiana? Non vedi che sto lavorando. Mollami. Lei questa sera uscirà con me. Il suo Giorgiana preferito. Io questa sera uscirò con te. Il mio Giorgiana preferito. E andremo a mangiare il Megaburger a Baranzate. Baranzate. Che bello. E il Megaburger è il mio piatto preferito. Ti chiamo. Signore imbruttito. Mi stava cercando? Mi stavo aspettando, giovane Giorgiana. Lo sapevo. Lei è stato corrotto dal lato oscuro della forza. Trovo insopportabile la tua mancanza di fatturato. Ma figa, ma io ti pago per dormire. E poi cosa stavi facendo? Guardavi Disney Plus? Io non stavo dormendo. Sono il suo braccio destro e lei vuole assumermi a tempo indeterminato. Ma sei scemo? Con uno stipendio altissimo. Uè, c'hai già Gedi. L'unica cosa altissima che ti do è la pila delle bollette da pagare. E se vuoi, usi i tuoi poteri per spostare la fila allo sportello. Ma beves! Che l'universo aspetta. È l'universo? Sono io. Dai, sì! Era così bello fare il Gedi.